La seconda cosa, un passo per avere una vita vittoriosa quest'anno, che dà gloria a Dio, è vivere per conoscere Gesù Cristo. Vivere per conoscere Gesù Cristo. Questi discepoli qui, ad esempio, conoscevano Gesù Cristo, camminavano con Gesù Cristo. Tante cose hanno già imparato da Gesù Cristo. Si sapevano già questo è il nostro Messia, il nostro Salvatore, ma non hanno ancora capito cosa vuol dire veramente e come funziona il piano di Gesù Cristo per salvarsi un popolo e portare il suo regno in ogni parte di questo mondo. Hanno conosciuto un po' Gesù Cristo, ma cos'è la verità? La realtà è che hanno continuato poi a conoscere Gesù Cristo ancora un paio di anni. E dopo, quando Gesù è andato in cielo e erano mandati per iniziare la Chiesa e anche tante Chiese locali, equipaggiare e fare altri discepoli in ogni nazione del mondo, continuavano per il resto della loro vita a imparare sempre di più chi è Gesù Cristo, per conoscere sempre di più Gesù Cristo. Non finiamo mai a conoscere meglio Gesù Cristo. Prima di tutto dobbiamo conoscere Gesù Cristo come il nostro Signore, Signore della nostra vita, il nostro Salvatore. Questo è il primo passo, riconoscere chi è Gesù Cristo, venire a Lui, ci chiama, ci invita di venire a Lui, ognuno di noi che siamo affaticati e oppressi e ci darà riposo. Veniamo a Lui, riconoscendo chi è, è il Salvatore, colui che ha vissuto per me, colui che anche è morto, la morte che dovevo io subire, e poi è risuscitato. Veniamo a Lui, veniamo salvati per grazia e mediante la fede, e continuiamo poi per tutta la vita a conoscere meglio Gesù Cristo, e non soltanto tutta la vita adesso, ma per eternità continueremo sempre a conoscere Gesù di più. C'è molto di più ancora da conoscere di Dio. I libri non possono contenere tutto quello che c'è da sapere del nostro grande creatore Gesù Cristo. Basta vedere il cielo, le stelle, l'universo, inspiegabile, quanto grande è veramente il nostro Signore Dio. Impegnati quest'anno per vivere, per conoscere Gesù Cristo. Se chiedi alle persone per quale motivo vivi tu, tanti dicono per guadagnare soldi, l'importante è guadagnare soldi. Tanti dicono per arrivare a questo livello, ad esempio, o quest'altra cosa. Ancora altri dicono, io vivo per costruirmi una famiglia, essere un padre, essere un buon genitore, ho la lista continua, tantissime cose per essere il migliore in questo ambiente della vita, questa sfera della vita, qualsiasi cosa. Ma quanti di noi dedichiamo il nostro cuore a vivere per conoscere Gesù Cristo? Questo dovrebbe essere uno scopo principale della nostra vita, per conoscere Gesù Cristo e farlo conoscere anche alle altre persone. Grazie per aver visto questo clip dell'episodio. Se vuoi vedere l'intero episodio, c'è un link nella descrizione di questo video. Allo stesso tempo ti invito a iscriverti al canale, così facendo vedrai ogni volta che esce un nuovo episodio. E se vuoi sostenere questo canale o questo podcast, ti invito a lasciare una recensione da 5 stelle dovunque ascolti podcast. E così facendo aiuterai altre persone a trovarci e ricevere le benedizioni dalla parola di Dio. Che Dio ti benedica. Ciao ciao. Ciao ciao.